no ma che non sono tornata alla faccia del quadro marco io c'ho una bella cassa c'ho ancora depositato la parte di pietro conti sto strano m allora primo questo dan dimmi come si fa un rubinetto c'è spero di averci azzeccato non lo scelgo di ferro vabbè tanto me lo posso riprendere indietro c'è di ferro la spada si mi fa ma dai io ma la sarò fatta a 100.000 episodi fa giorgia ancora con quella di pietra non so ma posso fare d'oro no d'oro non dura niente 33 colpi è è andato ok quindi mettiamoli qui eh qual era l'altra cosa che devo fare il pannello solare un attimo solo ragazzi eh boh io faccio la tt tt amma tt dove cavolo è anche un windmill poi dovrei fare vabbè per ora facciamo il pannello solare sento felice che ci serve ci serve sta roba che è polvere di carbone quindi ci serve il maceratore che bello quindi come non detto bisogna fare prima il maceratore maceratore cotocco quindi servono 3 flint 2 di cobblestone un ma un blocco machine e ci serve del ferro marco ti va di andare in miniera aspetta perchè io sincero ti vorrei fare un accendino eh ci servirebbe anche del flint aspetta il flint ci penso io è più lento di non so cosa starò per miniera per il flint ci penso io no no vieni pure te in miniera aspetta prima prendo il flint hai un po' di pesce eh no po' vedi cos'è perfetto da fare ne ho trovato al menù nello so si si due di flint gioco si vedi di ammazzarà mangiare deciso mio 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 ok che schifo vabbò prenditelo te non ti devo dire grano ok solita lag mi sa che devo pure cancellare qualche video da sto computer le angurie non ce le abbiamo video di fraps sono più di 4 giga ad uno sì ma non ce le abbiamo le angurie magari questo mio riusciamo a farci un altro panino io volevo un kebab eh lo so che non c'è il salame marco il kebab vuole eh facciamo anche così dai tanto sti slabs non ci servono a molto come sprecare gli slabs piccone ah come mai era protetto aspetta un attimo era protetto non lo so sai forse perchè abbiamo montato un blocco un blocco protetto dato che ci sono tutte le cose del dell'altra cosa comunque non ti metto amministratore solo per il fatto che hai capito no? veramente no solo per il fatto che tu fai quello che vuoi amministratore del che? amministratore del che? del condominio? si ah ok mi farò l'amministratore del condominio una cosa che non ho fatto è costruire un palazzo a più piani per chi vuole giocare nel servo ormai sarei l'unico che vuole giocare ancora nel servo oh arbo scelto grande oh penso che per ora di gomma siamo a posto un bel po' a posto sto letto distruggendo stefogli e vediamo se ci vediamo se ci vediamo un po' quindi 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 questo qui mh ho capito ma zucco non gli ho dita simone posso provare la motosega su di te scusa un attimo ehm ok mi diamo tutti i cuori mai elevato ehm t'ho detto che fa male vabbè dai basta gomma ormai aspetta no voglio capire come si no aspetta mi sa che mi sa che mi sta crescendo il gioco come si usa il si mi sa che mi sta crescendo il gioco si ah no si riprende no vediamoci mancano pure crash durante la registrazione simo se come si fa a prendere la gomma con il rubinetto aspettate non ce l'ho un rubinetto in mano mano scacca e clicchi sul destra sul coso di resina ma non me l'ha data stima di cliccare sul coso di resina non sulla su cosa qualunque su quello di resina lascia stare la carta ehm che dobbiamo cercare il ferro vieni marco si vieni qua guarda qua ecco tipo questo qualcosa di resina no aspetta dove lo vedi che questo no è un albero di gomma si nel albero di resina però io non la vedo la resina come lo qua sto coso chiaro ma io non lo vedo sto coso che ero qua certo che non lo vedo tutto l'albero è tutto uguale no ah è ancora oppure se o sono pagato io così cerco basta alberi di gomma non ci faccio più siamo strapieni di alberi gomma sei pronto per l'esplorazione marco si l'ultima esplorazione fino a settembre si signor capitano aspetta un attimo si però faccio un altro piccone che non si sa mai mi servirebbe un minimo di ferro a me scusate ragazzi allora un altro piccone cavolo faccio come al solito non non ho il necessario non ho la cosa sufficiente eh it's a want the fancy ci sono la dentro quando l'abbiamo fatta? l'ho fatta io ma quanto legno hai sprecato? è sempre la mi giro e mi rigiro e non prendo mai quello che mi serve il mio legno c'è una boccello che faccio lo pianto basta non ce la faccio più lei lascia dentro la cesta poi si vedrà poi si vedrà poi poi crescerà poi cosa non mi serve i semi non mi servono inutili semi del caso hai dei da me? eh perchè no? pk non pk si c c il cibo ok questo via via ti serve il cibo? prenditela canna alla pesca e va a pescare ma dai marco basso del serbo sceglione ce la faccio più eh ho piantato un consiglio sì che poi da un innocente guarda c'è di tutti di più ok vabbè comunque cerchiamoci una caverna o ritorniamo a quella dell'altra volta magari un attimo a questa da seguire molto questo cosa c'è fatto un piccola spazio tutto 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 questo è tutto un quale organizziamo cisti inventari del carbone questo del carbone si o un pezzo io ci conviene a cercarci ma trovo il po da pesca te non so fai qualcosa no no ti ho detto andiamo a prendere del ferro ma ci serve il cibo me ne frega niente ma dai andiamo seguimi seguimi o ti ti do un'altra un'altro coso segata un'altra moto segata si ora hai sentito il rumor ok vieni forse mi ricordo dove è la caverna qualcuno ha scritto su skype vedo dopo che mi ha scritto sarà un fan che mi scrive senza cuore e senza prosciutti già esplorata quando ci siamo andati qua sotto io sono sia senza cuore sia senza prosciutti vabbè comunque ci terrè mhm lag marco ma non è che l'esplorata da solo conoscendoti no strano robo seguimi intanto mi ricordo dove l'altro perchè c'erano tre tre posti della caverna un attimo il lag come al solito riferi no vuole che qua c'è un petto di luce c'è una parte di caverna vieni a venire ti sento malissimo oh qua l'ho ritrovata quella dell'altra volta no ma vieni in questa che c'è un casino di roba marco anche qui eh se mi sbaglio come non ho detto vabbè qua c'è un pezzettino prendiamoci le torce ok il 3 tap non mi serve niente questo qui ok ne metto due solo per evitare lo spawn che non c'ho voglia di trovarmi un creeper dietro le spalle ma si che sarà mai eh certo ti fa solo saltare in aria ma che sarà mai boh comunque c'è la regione testa caverna è messa male comunque dove sei? eh quella caverna che avevi visto prima ho 4 cuori e 3 e 5 profutti vuoi che ti da un colpo di motosega? no voglio che mi dai un colpo di carne eh questo sicuramente l'esplorato te perché io non mi ricordo di averlo esplorato no io non l'ho oh copper beh tanto non ci servirà molto ne abbiamo un casino di tutti tutto quello che ci serve carne si e dammene un po' che c'è? dammi un po' di carne sto morendo di fame e lo so che mi vuoi bene marco ti devo menare funghetti ferro ok prenditi il funghetto io penso al ferro guardate il funghetto no marco mi servono per l'industria e te li do poi oh no che non c'ho cuore infame oh sei peggio te di me c'ho i miei dubbi si mo ti muro dentro no dovevo prendere funghetto e ti sei messo davanti ho preso io il funghetto no certo ho tanto il ferro te lo sei fregato te il funghetto me lo sono preso io mi vuoi dare un po' di carne che c'ho due cuori perché non c'ho nulla vedi che non c'ho nulla non c'ho nulla vedete pure voi ragazzi che non ho nulla no strano che non ci siano non ci siano mostri comunque molto strano e quando ricarica la pagina di social blade mi lagga in una maniera esagerata tanto qua mettere in pausa uh zombie ma non ci lagga troppo pure il creeper no grande ti stimo ti sentite vedi perché io amo i creeper camomo mi ha salvato la vita ammazzato lo zombie c'è ma vi rendete conto ragazzi ogni volta che lagga spunta le mostre rendetevi conto bo boh pezzi di ferro zero ma che schifo vieno 15 simo i motivi per odier a marco simo sai che ti dico do star si dove sei te non mi vedi io sono sopra 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 ti sento nuotare o c'è qualcuno che nuota sotto di me ecco cerca di venirmi incontro ah e che t'ho visto uh fer mi vedi si si t'ho visto ecco salvami le spalle se c'ho qualche creeper dietro ecco appunto eh dimmi facciamo così è vero che sei ah eccolo lo zombie aspetta voglio provare la motosega fermo yeah i zombie sono più resistenti di noi scheletro sentono scheletro io sono senza torch ce l'ho io le torch io ho finito il carbone stanno noi comunque non abbiamo ancora trovato carbone qua eccolo lì lo scheletro due corpi due corpi è andato sto cosa qua fra questo qui è otro